Abbiamo puntato su un titolo che in qualche modo comunque è qualcosa di italiano, ma comunque è il titolo Air France KLM, quindi comunque le vicende anche qui le conosciamo abbastanza bene, si tratta di un cash collect non stop, che come dice il nome stesso del prodotto è un certificato che consente di puntare all'incasso di cedole, nel caso specifico cedole trimestrali, e però di non beneficiare del possibile rimborso anticipato in quanto appunto c'è questa caratteristica di non stop, cioè non c'è la possibilità di beneficiare dell'opzione auto callable. Nello specifico il certificato che comunque si acquista ancora sopra la pari in questo momento circa 105 euro, ha staccato la scorsa settimana una prima cedola del 2,3%, quindi 2,30 euro per certificato, Questo perché Air France, dallo strike che è 7,50, si trova attualmente a un prezzo di 8,61 euro, quindi in rialzo di circa un 12-13%, ma la scorsa settimana era andata nuovamente a testare l'area dei 9 euro, quindi ampiamente al di sopra dello strike, ma soprattutto al di sopra della barriera, che è il livello tondo di 6 euro che determina il pagamento della cedola. Ora, quindi il certificato in questo momento si compra sopra la pari, quindi tendenzialmente cerchiamo sempre di andare a cercare qualcosa sotto la pari, ma quando si trova al di sopra non per questo è da escludere, e quindi il certificato è da non considerare, perché forse dire che evidentemente il sottostante è in rialzo rispetto all'emissione. Quindi, livello chiave da guardare per i prossimi mesi e quindi per cercare di puntare a questo rendimento che oggi non è stratosferico, perché comprando sopra la pari si arriva a poco più di un 10% di rendimento complessivo sulla scadenza di giugno 2020. Quindi non stiamo parlando di un certificato particolarmente generoso, però il livello di 6 euro è un livello che su Air France rappresenta almeno per il momento un valore che potremmo definire comunque abbastanza tranquillo, in considerazione al fatto che dista circa un 30% dei livelli attuali, che Air France non appartiene al settore bancario, che comunque sappiamo bene, nonostante le ultime notizie di dimissioni del CEO e anche oggi tra l'altro si è dimesso il capo delle risorse umane, insomma c'è un po' di movimento che ha portato oggi il titolo tra l'altro a cedere il 3,50%, anzi quasi il 4% in chiusura, però questo in qualche modo non dovrebbe compromettere il buon cammino dell'ultimo periodo.